C'è chi si è ostinato nonostante il tempo e la legge a rifiutare un dato rifatto, forse con la scusa di trovare in chi è diverso da loro a chi attribuire responsabilità, per sentirsi migliore di ciò che sono consapevoli di essere, disinteressandosi di chi hanno davanti, delle loro intenzioni e potenzialità, di ciò che hanno magari da offrire a lui e al prossimo, non curandosi del fatto che siamo tante facce della stessa medaglia. Cosa sono due colori, un segnale che il cervello percepisce, chiudi gli occhi, il calore delle mani, la parola e l'intelletto ci distingue, forse è vero che resiste chi ha del marcio dentro e allora, lavoriamo insieme per pulire quella macchia ancora, non dimentichiamo ora che c'è ovunque un'altra faccia di quella medaglia bianca e nera. Cosa sono due colori, quando dentro il sangue resta sempre rosso, dimmi adesso lotta per restare fuori, senza che nessuno possa denigrarci. Forse è vero che resiste chi ha del marcio dentro e allora, lavoriamo insieme per pulire quella macchia ancora, non dimentichiamo ora che c'è ovunque un'altra faccia di quella medaglia bianca e nera. Credere superiore chi ci è simile senza ragione, di ciò che ci ha fatti crescer simili e diversi. Far valere quel diritto di supremazia che niente ti ha concesso ieri, spiegami. Forse è vero che resiste chi ha del marcio dentro e allora, lavoriamo insieme per pulire quella macchia ancora, non dimentichiamo ora che c'è ovunque un'altra faccia di quella medaglia bianca e nera.